Sono aumentate del 18% le denunce relative ai casi di bullismo e cyberbullismo, ma accorre insistere sulla conoscenza e la prevenzione del fenomeno. E' quanto riferito da Domenico Falco, presidente del Coricom Campania, nell'ambito di A Scuola Senza Bulli 2020, la campagna contro bullismo e cyberbullismo promossa in collaborazione con il Consiglio regionale presieduto da Rosetta D'Amelio. L'iniziativa in formato webinar ha coinvolto gli studenti e i docenti dell'Istituto Comprensivo 2 di Sant'Agata de Goti. L'IC2 Sant'Agata de Goti è da anni impegnato con le tematiche del bullismo e del cyberbullismo. Inoltre partecipiamo ad una rete di scopo che si è costituita nel territorio beneventano, Bulling Stop si chiama questa rete, che coinvolge 33 scuole e nelle sue attività ludiche e formative prevede la partecipazione non solo degli alunni, ma anche del personale ATA, del personale docente e dei genitori. La nostra scuola in maniera particolare ha partecipato ad un progetto chiamato Generazioni Connesse e il prodotto finale è stata un'integrazione al nostro regolamento di istituto con un ulteriore regolamento che mettesse in evidenza quali sono le regole per una giusta navigazione nella rete. Per Fabiana Sera, speaker radiofonico e testimonial d'eccezione nell'incontro con gli studenti, le vittime di bullismo hanno una grande missione di amicizia da compiere, aiutando i bulli a socializzare e a superare i problemi. Queste iniziative sono stupende. Voi ragazzi che ci avete posto delle domande brillanti, intelligenti, come a ricordare che insieme si può combattere uno scoglio come il bullismo e il cyberbullismo. Fare rete e fare squadra vi insegna e vi ricorda che siamo dalla vostra parte, sempre. A dialogare con i ragazzi anche Ivana Nasti, direttore del servizio ispettivo Agicom, e Nicola Pasquino, presidente del Rotary Club Napoli Angioino, che hanno fornito consigli utili per affrontare e debellare il fenomeno in un interessante confronto che ha coinvolto anche psicologi e avvocati. Rispetto a questi atti ci saranno delle conseguenze, anche molto gravi, quindi oltre all'ammonimento del questore sarete sottoposti ad un procedimento penale, con tutte le conseguenze del caso, anche la limitazione della vostra libertà personale, nonché poi la limitazione anche del vostro futuro lavorativo. Pertanto io veramente vi invito a pensare bene prima di commettere questi atti e soprattutto a pensare a quelle che sono le conseguenze. Il difetto di empatia, la difficoltà di instaurare buone relazioni e a comprendere e gestire le emozioni proprie altrui, è tipica del bullo. Le azioni più efficaci sono, diciamo, sicuramente lavorare con il bullo e con la vittima a livello individuale, ma poiché il bullismo e il cyberbullismo sono fenomeni di gruppo, nascono in un gruppo, vengono mantenute in un gruppo e vengono interrotte in un gruppo, è necessario lavorare anche con tutti gli altri compagni, in particolare attivare i compagni silenziosi, quelli che rimangono per lo più in silenzio sia per ampliare la rete di protezione della vittima sia per far arrivare un messaggio di chiaro dissenso al bullo.